BAM! Ciao a tutti ragazzi, sono Yoz e benvenuti finalmente nel vlog che magari stavate aspettando in tantissimi. Questa è la decisione appunto finale che ho preso per il canale e adesso questa decisione è vera, non è più un pesce d'aprile e appunto moltissimi di voi ci sono cascati nel video precedente ma quello era l'intento del video e appunto sono felice di avervi fatto... fare una risata insomma perché alla fine quasi tutti hanno riso a parte qualcuno che ha tirato commenti alla cazzo. Però ok, comunque se ancora non l'aveste capito questo è il secondo canale che ovviamente il link trovate nella descrizione e in questo secondo canale cosa farò? Farò i video sui videogiochi e appunto diciamo ricaricherò tutti i video che ho dovuto eliminare sul primo canale in quanto se non avete seguito il tutto andatevi a vedere il vlog ma comunque è perché ero andato contro il copyright di un videogioco che non vi sto a dire qual è e quindi qua ricaricherò tutti i video a parte appunto uno o due che ovviamente erano quelli che non potevo caricare che ho dovuto eliminare. Quindi ricominceranno tutti i video, aspettatevi, ogni giorno ne caricherò qualcuno ne ho già caricati moltissimi, li pubblicherò appunto piano piano giorno dopo giorno io considero già di passare appunto dal canale e come vede ci ho già due iscritti perché questi due iscritti sono quelli che sento maggiormente sulla pagina di Facebook che anche quella lì la trovate nella descrizione e appunto sono emj0 e erenjager che non ho mai capito come si pronunci comunque voi sapete chi siete e appunto se volete essere salutati o qualsiasi altra roba nei video passate dalla pagina di Facebook, scrivetemi o qualsiasi altra roba e appunto vi saluterò o farò quello che magari mi direte ovviamente non ucciditi e io mi ucciderò nel video perché no e appunto quindi passate dal nuovo canale in cui caricherò i video su come scaricare e installare i videogiochi quindi Life is Strange che me lo stavate richiedendo in tantissimi The Culling Subnautica e poi appunto come ho detto prima ci saranno tutti gli altri video di prima e altri che farò piano piano mentre su questo canale ovvero i vostri tutorial se è quello che state guardando adesso continuerò a fare i video e questi video però saranno tutti legali in quanto appunto non voglio rischiare quindi saranno tutti i video del genere come mettere la mappa, come mettere la mod su Minecraft come scaricare magari qualche gioco gratis e tutte robe così molto appunto semplici che però molti di voi non sanno fare perché come vedete le visualizzazioni ci sono quindi la gente non le sa fare io sono felicissimo di aiutarvi a risolvere i vostri problemi inoltre molti di voi, non c'è per esempio nessuno quasi nessuno a parte uno o due si sono accorti che c'è anche un canale sportivo in questo canale sportivo appunto io carico dei video in cui faccio parkour parkour tra virgolette perché comunque io non lo pratico cioè non lo faccio in palestre ma ho delle mie tra virgolette abilità e quindi appunto che mi piace farlo in giro così alla cazzo ho fatto dei video, dei montaggi e li ho caricati appunto su youtube come vedete appunto io sono qua delle parti di Mugio quindi in provincia di Mons non vi sto a dire il paese perché non vi deve fregare un cazzo comunque se siete nei paraggi magari vi potreste vedere non so quando però ok quindi ragazzi questi sono i tre canali che c'ho la pagina di facebook ovviamente appunto trovate tutti i quattro link nella descrizione vi invito a passare alle tutte e quattro spero di trovarvi in tutti ovviamente non vi dite se scrivete da ivos per andare su ivos2 perché i tutorial come ho detto continueranno sia su uno sia sull'altro in caso dovesse succedere qualcosa su uno o sull'altro canale appunto siete sempre aggiornati su quello che farò quindi passate di nuovo su tutti i link fatemi sapere se passate se passate sulla pagina di facebook scrivetemi chi siete così riesco ad associarvi al canale youtube e il nome reale perché se no non capisco niente voi mi scrivete tutti i scialdi e io non capisco perché non posso decifrare il vostro codice fiscale per capire come li chiamavate su youtube quindi basta minchiate vi aspetto tutti nel nuovo canale e noi ci becchiamo nel prossimo video che sarà molto probabilmente sul nuovo canale ovviamente ma anche su questo qui magari già domani esce un altro video mi raccomando non diludetemi ciao a tutti